Allora, beh, devo fare un favore al mio piccolo abichetto peloso con la faccia toast, ok? Mi ha chiesto una canzone così per ballare e cantare essendo venerdì, quindi la sua preferita, pepepepepe, la mettiamo subito, siete pronti a fare pepepepepepe, preparatevi i fogli da lanciare negli uffici così, però mi ha detto mi voglio anche un po' commuovere E allora mi è venuto in mente l'anno scorso, tu vuoi piangere e ridere, piangere e ridere, insomma ti vuoi emozionare, noi siamo d'accordo, un piccolo turbamento che sia di gioia o di dolore serve sempre, ok? Allora, prima un po' di tristezza e poi pepepepepepe, va bene? Va bene Guarda, non ha ancora iniziato, ma hai già il labretto che ti trema Ma non ha ancora iniziato, già piangi, proprio come senti la tastiera Lei piangeva sola, chiusa in bagno Lei piangeva sola, chiusa in bagno Perché? Eh, perché stava lì per i fatti Tutti i tuoi amici, senti Lotto Fatti come attrici Invece lei non era come un'attrice, perché è un fagotto E vedi solo i tuoi difetti Sei pronto? Sì Dai Allora, adesso invece siccome è venerdì e vogliamo festeggiare tutti Vai con quella che ti fa felice Ti piace questa? Sì Oh Bello, bello Sei come i bambini, piangi e dopo un secondo hai smesso, non ti resta niente addosso Ragazzi è venerdì 17, tocchiamoci i maroni Che ride, bello Che ride, bello Upa, neghi, una strada Upa, brava Upa, neghi, come sa doanda Come sa doanda Come sa doanda C'è pronto? Quattro e quattro Posso dire Brigitte Bardot la togliamo? La tolgo? Sì Ma come sì, ma guarda che Vabbè Devi crederci fino in fondo alle cose Va bene